Come è uscita con sollecitudine per andare da Stato vicino a Isabelina, allo stesso modo viene di nuovo tra i loro, cammina di nuovo per le nostre strade. Il popolo deve incontrare non solo il volto di Gesù, non deve incontrare solo il volto di Gesù, ma deve incontrare a noi il modo bello della Chiesa, dei battizzati, della comunità. Una Chiesa che è madre e maestra, che come madre si preoccupa e porta fuori, all'esterno, la bellezza della fede, ma anche alla malattia, ma anche alla sua bellezza. E come maestra di Sede che nella vita ci vuole più una zioncidina, che non c'è spazio per l'odio, non c'è spazio per il naturale, non c'è spazio per la fede, ma c'è lo spazio per la fedezza. La fede è autentica, quella che viene da Cristo. Con questo armo e con questa fede vogliamo comportare la verità e la vita, dunque le nostre strade e pregare anche tutte quelle persone che sono state pregare anche tutte le persone che sono state pregare anche tutte le persone. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Oh Dio viene a salvarmi. Signora di tutti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era al principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù Dio, perdona le nostre cose e fermaci da un uomo di strumento, solo nel cielo e negli anni, specialmente per i tuoi sordosi e la tua misericordia. Maria Regine Alessandro Rosario, Santo Medico e Santa Rosa, presentiamo il mistero di Caudiolo, nel primo mistero di Caudiolo, l'annuncio dell'angelo a Maria Regine, meditiamo e contempliamo questo mistero guardando in sé di Manica, ricordando la nostra prima vocazione di essere cristiani e battezzati. Ciascuno di noi, in questo mistero, ricordi e ricordi il suo senso, ad essere un testimone autentico dell'amore di Cristo, nella società di Caudiolo, Bruno Vespa. Spirla, gloria e ricordi. Attanara, attento. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.